Il presidente di Confindustria Salerno, Mauro Maccauro, ha presentato il documento Impresa Campania, 5 punti di forza e 5 priorità da affrontare, elaborato dal lente in vista delle elezioni regionali di maggio, rivolto agli aspiranti governatori. Nel corso della conferenza stampa, Maccauro ha esposto la sintesi del documento, nel quale figurano, tra le altre, le opportunità derivanti dagli scali portuali di Napoli e Salerno, la semplificazione amministrativa, l'utilizzazione dei fondi europei e la tassazione. Ma credo sia una delle priorità effettivamente misurabili. È insopportabile che in Regione Campania abbiamo addizionali, penso all'IRPEF e penso all'IRAP, tra le più alte d'Italia. È un obiettivo misurabile. Chiediamo e chiederemo ai candidati governatori della Regione Campania di prendere questo impegno, arrivare al termine della legislatura azzerando le addizionali che abbiamo in questa Regione. Significherebbe rimettere in tasca i soldi ai cittadini, significherebbe aver risolto le problematiche per cui per tanti anni i cittadini hanno fatto sacrifici con i propri soldi per cercare di risolvere i problemi come quelli della sanità. Abbiamo voluto cambiare linguaggio. Si parla sempre di politica industriale. Io credo che la prossima legislatura debba essere caratterizzata per una sensibilità industriale. Ci piace pensare che il prossimo governatore, la prossima giunta regionale abbia una sensibilità industriale forte, metta al centro dell'attenzione lo sviluppo, le problematiche della fabbrica e giustamente giocare la partita più importante, quella della semplificazione. Le aziende investono se sanno che hanno regole certe, regole chiare e tempi soprattutto certi. In questa partita credo noi possiamo giocare l'attrattività di nuovi investimenti. Il caso emblematico è la Fiat di Pomigliano, uno stabilimento che ha ripreso nel suo splendore. Questo significa che anche le multinazionali che sono andate via hanno le carte in regola per poter ritornare. Noi abbiamo voluto individuare in questo documento cinque punti di forza e cinque priorità. Non un elenco di cose da fare, perché le cose da fare sono ben chiare, ma mettere in evidenza quelle che sono le priorità che secondo noi servono per rilanciare l'economia e per rilanciare lo sviluppo. Immaginiamo che la prossima regione deva guardare con attenzione al luogo geografico in cui si trova la Campania e quindi mettere al centro una politica per il Mediterraneo per far sì che la Campania possa essere protagonista di un sviluppo forte nel mondo dell'Africa settentrionale, piuttosto che della Turchia, piuttosto che delle zone medio orientali vicino a noi. Quindi guardare con attenzione a quello che è un patrimonio di bellezza che noi abbiamo sul nostro territorio e guardare a tutti gli aspetti fondamentali come la cultura del lavoro, intrinseca nelle nostre aziende, perché abbiamo settori di eccellenza che tutti ci invidiano, e dall'altro canto avere la fortuna di avere una cultura e un bacino di giovani attraverso i sei Atenei Campani, in primis il campus di Salerno, che non è secondo a nessuno, secondo delle autorevoli classifiche che vengono stilate ogni anno, e quindi tutte queste sono sicuramente degli elementi importanti che consentono a noi di continuare a credere in questa terra e nella prospettiva della legislatura che ci sarà consolidare questo con degli asset fondamentali per riprendere il nostro cammino e riprendere, se mi consentite, anche la guida del Mezzogiorno d'Italia che fino a questo momento bisogna di nuovo riguadagnare.